Noi tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, ma facciamo fatica ad ascoltare. Abbiamo bisogno di essere compresi, ma facciamo fatica a comprendere gli altri. Abbiamo bisogno di essere accolti come siamo, ma facciamo fatica ad accogliere così come sono gli altri. Abbiamo bisogno di essere perdonati, ma facciamo fatica a perdonare. Ho detto tutto ciò non è per annoiarti, ma se è possibile, per metterci in sintonia quando parliamo di amore. Insomma, volevo dire abbiamo bisogno di essere amati, ma facciamo fatica ad amare. Stiamo male quando non ci sentiamo amati, soprattutto da quelle persone che dovrebbero amarci di più. Ma noi amiamo proprio quelle persone affidate a noi, quindi dovremmo proprio amarle di più? Il Vangelo di oggi mi ha colpito proprio in questo senso, cioè mi ha fatto percepire il nostro limite e le nostre incapacità nell'amare le persone, soprattutto quelle vicine a noi. Un po' perché forse ci lasciamo condizionare dagli altri, è un po' a causa di noi stessi. Mi spiego brevemente. Mi lascio condizionare dagli altri quando io dico che è difficile amare loro perché loro pensano così, perché loro parlano così, perché si comportano così, come se per amare queste persone loro devono avere chissà quale idoneità per meritare il mio amore e il mio affetto. Certo, uno può dire che ciò è umanamente logico, però Gesù mi chiederebbe dov'è quella straordinarietà del Vangelo. Penso che siamo tutti d'accordo nel dire che l'amore è un'energia importante, troppo importante per la vita. E per una cosa così importante ci lasciamo condizionare e limitare dalla bravura o meno delle persone? Non so se qui si tratta di debolezza o di forza. Vedi, il Vangelo di questa domenica inizia proprio parlando di Giuda Iscariota che va a tradire Gesù e Gesù comincia a parlare della sua glorificazione proprio in quel momento. Dove stanno la forza e la gloria di una persona? Nell'amare le persone che meritano il suo amore e il suo affetto o nella capacità di amare le persone che non lo meritano, perfino anche persone nemiche. Però la nostra difficoltà può essere causata da noi stessi. A volte anche se amiamo la persona o vogliamo bene ad una determinata persona non sappiamo come amarla, come manifestare il nostro amore. Ci sentiamo proprio incapaci di amare. Quante volte ci vengono a dire non riesco più ad amare mio marito o mia moglie, mio figlio oppure il mio parroco il mio vicino di casa ed è proprio qui che a me viene in aiuto il Vangelo di questa domenica quando Gesù mi dice come io vi ho amati. Vedi, noi dobbiamo imparare tante cose nella vita anzi, quasi tutto dobbiamo imparare però quando si tratta di amare chissà perché vogliamo viverlo così in un modo spontaneo ognuno a modo suo quando viene e come viene non è vero, non è vero l'amore è talmente importante ed è difficile dobbiamo imparare anche e soprattutto imparare ad amare e ad amare per davvero davvero vuol dire come vogliamo essere amati per davvero noi stessi e come come il Signore ci ha amati concentrandoci sulla nostra incapacità dobbiamo dire che il nostro amore è sempre di risposta vale a dire se non siamo amati abbiamo tanta fatica anzi siamo incapaci di amare ecco, ritornando ancora nel Vangelo di oggi Gesù ha ragione nel dire amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati il Signore sa che senza il suo amore siamo incapaci di amarci gli uni gli altri se non ci sentiamo amati da Lui facciamo tanta fatica ad amare gli altri come sono ecco ecco perché la musica cambia la musica cambia quando quando ci sentiamo amati da Lui quando sentiamo l'amore della Vergine Maria della Madonna nei nostri confronti non ci lasciamo più condizionare dal merito degli altri o dal loro comportamento anzi più loro non se lo meritano più siamo lì a dare il nostro amore con forza e con gioia cristiana ecco non ce la facciamo da soli se ce la facessimo da soli Gesù non sarebbe venuto sulla terra ecco vorrei chiedere in questa domenica proprio questa grazia Gesù aiutami a sentire sempre il Tuo amore aiutami ad essere sempre consapevole del Tuo amore e così potrò amare senza nessuna condizione le persone che Tu metti accanto a me nella vita così potrò amare davvero tutti come Tu mi hai amato e mi ami grazie Signore grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti